Lo scarico per Torreira, Biraghi, la frentina fa girare il pallone, prova a calciare dalla distanza, Biraghi, il pallone che rimbalza, poi Kayejon, la sfera che resta lì. Sinistro ad uscire, tutto solo Martinez, quarta poi Milenkovic. Però molto più bravo Saponara a recuperare il pallone insieme a Duncan, Saponara con il destro. Su Torreira da parte di Henderson, un pallone interessante per Kayejon, lo scarico e Martinez quarta, non trova la porta, ha due passi da Vicario. Buonaventura, il cross, pallone deviato, traversa. Saponara, col sinistro, dentro per Vlaovic, va a Buonaventura, è l'impressione quella del gol, ma il pallone è uscito fuori. E poi lì, occhio, Martinez quarta, Vicario, anticipa il difensore della Fiorentina. Attenzione però, è bravissimo Vlaovic a servire Kayejon, il tocco dentro e poi Vlaovic! 1-0 Fiorentina, al cinquantacinquesimo! Bayrami, destro importante dentro, brutta entrata intanto su Milenkovic però. Alza la testa Bayrami, il pallone passa e c'è il 2-1 dell'Empoli. E arriva il triplice fischio dell'arbitro Luca Sacchi della sezione di Macerati.